Diamo la verità scientifica, la verità scientifica è che biologicamente è opportuno partorire presto, anche perché se noi procrastiniamo la data del parto, ovviamente aumentano tutta una serie di patologie sia per la mamma che per il neonato. È il giorno della fertilità, il Fertility Day, l'iniziativa del Ministero della Salute che negli ultimi giorni ha infiammato molti animi e acceso altrettante polemiche. Si tratta della prima giornata nazionale dedicata all'informazione e formazione sulla fertilità, una tematica che abbiamo affrontato con il dirigente medico del Dipartimento Materno e Infantile dell'ospedale San Donato di Arezzo. Qui ad Arezzo distinguiamo tra le nostre neomamme di origine italiana, che siamo oramai a un'età media al di sopra dei 30 anni, diciamo intorno ai 32 anni, mentre le neomamme non italiane hanno un'età nettamente più bassa, di 4-5 anni più bassa, 27-28 anni. Sempre parlando di fertilità, quali sono le problematiche che vengono riscontrate più spesso? Per quanto riguarda la fertilità, ovviamente noi abbiamo la grossa spada di Damocle dell'età, perché scientificamente, biologicamente, la donna è predisposta al parto nel modo migliore a 24-25 anni. Sia prima che dopo quest'età possono intervenire varie problematiche, da problematiche flogistiche, all'endometriosi, ma soprattutto alla qualità degli ovociti. In particolare abbiamo un bello scalino di riduzione di fertilità a 35 anni, ma soprattutto 40 anni, un cut-off importante dopo il quale la fertilità è veramente difficile. Per quanto riguarda la prevenzione, ovviamente occorre un'attenzione nella sfera sessuale per evitare malattie infettive e sessualmente trasmesse. Parliamo di igiene dell'alimentazione, perché anche questa influisce moltissimo nel percorso della fertilità. Altra prevenzione che può essere fatta è sicuramente informare le donne sulla loro biologia, e questa è una cosa che deve avvenire fin dall'età scolare, e dare le informazioni giuste sulle capacità biologiche delle donne di poter procreare nelle varie età della vita.